cercherò di essere il più delicato possibile anche se non lo vorrei fare sinceramente perché mi sono stancato però cerco di essere come sempre il più delicato e più umile possibile anche se purtroppo non servirà a nulla perché non serviranno anzi non servirebbe solo la parota in certi casi però io guarda sono in difficoltà sono in difficoltà per la mancanza di rispetto e per tante altre cose comunque non ci sono problemi allora il bond attuale non è sottoscritto assolutissimamente da black rock vi hanno fatto vedere il bond vecchio perché quello attuale si sa solo che tra che tra i sottoscrittori c'è optri perché per via diretta sono venuti a saperlo tra l'altro c'è una grandissima riservatezza quando fai un bond per quello che concerne i sottoscrittori c'è una grandissima riservatezza non lo vieni a sapere mai quando lo vieni a sapere lo vieni a sapere solo quando è scaduto sta per scadere chi c'era tra i sottoscrittori è così che funziona quindi chi vi ha detto che il nuovo bond è sottoscritto da black rock vi ha detto l'ennesima puttanata perché vi ha fatto vedere il bond vecchio che è scaduto nel 2022 che era quello precedenza e anzi lui dovrebbe sapere che i bond erano due che scadevano il 31 dicembre del 2022 poi cosa succede in quei casi prima della scadenza è normale emettere un nuovo bond per svariate ragioni ovvero sia quello anche di rimborsare gli obbligazionisti proprio con l'emissione di un nuovo bond potrei entrare più nel profondo io e non sono a livello dei ragazzi no non gli leggo nemmeno le scarpe ma questo basta avanza per far capire a voi e per dare una lezione di umiltà a chi non è umile a chi dovrebbe informarsi a chi dovrebbe tacere invece di rispondere con le alzate quello è il bond vecchio che è scaduto dove c'era black rock in questa attuale a malapena si è venuto a sapere che per una piccola parte come sottoscrittore ceo 3 e si è saputo per via diretta i ceo 3 potete controllare tutti di quello sto dicendo spero che serva a qualcosa te la sei cercata mi dispiace devi imparare a stare zitto essere umile quando non sai le cose non è il tuo campo fai altre cose perché ora se no mi fa incazzare alla fine lascia perdere lascia stare rispondi anche chiudo non voglio infierire lo sparo sulla roce rossa la finisco qui per me non ci sono problemi è tutto opposto va bene ma anche per rispetto dei ragazzi queste cose qui io queste cose qui le faccio prettamente per rispetto loro ti rendi conto uno fa il meccanico vuole fare il medico ma dove siamo arrivati ragazzi è un esempio ogni lavoro al suo prestigio serve il meccanico serve il medico serve il salumiere serve che pulisce le strade se tutti i lavori se chiunque tutti i lavori sono importanti non è che un lavoro quelle con andare più e più importante ma ma lascia perdere cose che non sai che spari solo cazzate crei caos e disinformazione te la sei cercata questa e io ti ho salvato migliaia di volte ora ma hai rotto i coglioni anche te perché io che sono non informato di più che dietro ci sono quattro cicche professionisti che giorno vendono comprano fanno aziende conoscono bilanci cioè ragazzi ma siamo matti ma cosa rispondi cosa vuoi rispondere te a chi rispondi dai su ma per fa ma ma lasciamo perdere dai vedi avevo provato avevo provato in maniera delicata lasciate perdere la finanza non vi appa lascia stare non ne fanno più nemmeno io ma dove vuoi andare ma lascia perdere ma fai due o tre balletti che è meglio dammi letta prendila come prendila come una lezione di vita questa vi che ti serve perché danfris gioca meglio come mai danfris quest'anno gioca meglio anche all'inter il nazionale si sa che gioca meglio perché lui nasce a 4 e da tutta la fascia libera quando lui si inserisce centrocampista scala e lui ha tutto il campo libero perché cioè lui se lo lascia scavallare fortissimo poi si ne rossa deve migliorare all'inter non succede questo perché spesso negli inserimenti se ci fai caso si pesta i piedi con barella ma perché anche migliorato tanto danfris perché è migliorato tanto danfris danfris è migliorato tanto anche perché c'è un giocatore che ha capito come sfruttarlo sai che questo giocatore è turam che lo lancia in profondità ecco perché è migliorato danfris riguardati un po le azioni delle prime tre partite e guarda turam quanto volte lo lancia in profondità perché ha capito come sfruttarlo ecco perché danfris gioca anche meglio ma nessuno lo dice te lo dico io che sono tifoso da poltrona come te c'è io ragazzo che non ho più parole è vero che ognuno può dire tutto quello che ti pare ma permettetemi dopo gente che parlava un anno prima del new york times c'è arriva un bananone di uco e ci risponde sul bond vecchio che è scaduto dai ragazzi basta ciao inter